e occhio che scivolate e occhio ok provo a vedere la possibilità troppo di lato i timonti sopra adesso è il meglio con la distenza mi dai peso è una trazione è una trazione io invece di aiutare più tardi ti filmo sei un po' da culo aia sta girando la ruota? si è la frizione che ma cosa tenevi la frizione tirata? qui non sta in piedi tu lo so lo so grazie grazie